amici del software libero open source benvenuti o bentornati in questa 79esima puntata del podcast di marco's box adesso anche punto it bene 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 benvenuti bentornati nuova puntata con il riassunto della settimana con le notizie dal mondo del software libero open source iniziamo questa puntata parlando anche di una piccola conquista per marcos box ho finalmente acquistato il dominio marcos box punto it per adesso rimanda al marcos box punto org quello tradizionale sto ancora pensando o meno di fare la migrazione totale quindi passare al dominio punto it come dominio principale del sito ancora non lo faccio perché ci sono alcuni problemi per quanto riguarda l'indicizzazione delle pagine che sarebbe un bagno di sangue che ancora non sono pronto per affrontare e però comunque per adesso comunque è attivo e rimanderà al punto org se voi state chiedendo il punto com non ce l'ho perché qualcuno tempo fa l'ha preso e ha comprato un tizio all'inizio che vendeva cibo per animali in romania poi il sito è fallito e il dominio è adesso in vendita da una cifra spropositata quindi ecco perché non c'è il punto com su marcos box bene iniziamo questa puntata parlando di gnome questa settimana c'è stato il rilascio della versione 3.38 di gnome nome in codice orbis si tratta di una release della consulite release semestrali che portano con sé alcuni cambiamenti minori e tante correzioni di bug questa questa versione tra le novità principali miglioramenti nello screen recording nel supporto al multi monitor una migliore esperienza di navigazione web con gnome web se qualcuno utilizza questo browser miglioramenti maps miglioramenti in glocks in games e in alcune utility oltre a questo poi c'è il consueto lavoro di bug fixing che non manca mai restando sempre in ambito gnome c'è stata una notizia questa settimana di cui non vi ho parlato su marcos box magari ho postato qualche link nel canale tegra ma nulla di che riguardante la prossima versione di gnome se vi aspettate vi aspettavate tutti quanti la versione 3.40 perché 3.38 3.40 perché hanno seguito tutto un ciclo di rilascio da 3.36 3.34 bla 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 fino alla versione appunto 3.40 che sarebbe dovuta essere la prossima versione di gnome bene no i tizi di gnome hanno deciso di cambiare la numerazione e la prossima versione di gnome si chiamerà gnome 40 e si non poi c'è su se volete vi posto alcuni link in descrizione di questo podcast su un post realizzato da monologo e bassi sul forum che sviera questo nuovo versione e spiega il ragionamento alla base del salto molti non hanno presa bene questa notizia io non nemmeno non nemmeno pubblicata la notizia perché non la reputavo una notizia interessante vi ricordate della polemica di qualche settimana fa riguardante la mancanza di leadership all'interno della comunità di ubuntu e la mancanza del consiglio di comunità che era stato praticamente dismesso bene e ci sono buone notizie per gli utenti ubuntu mark shatterworth il dittatore benevolo non che patron di ubuntu dopo la discussione di qualche giorno fa ha deciso di venire incontro alla comunità e ha deciso di ripristinare il consiglio di comunità di ubuntu verranno coperti tutti e sette i seggi l'incarico avrà una durata di due anni e per essere idoneo un candidato deve essere un membro della comunità di ubuntu e deve avere anche una vasta conoscenza della comunità di ubuntu ed essere ben organizzato ed essere un leader naturale tutte le solite chiacchiere che accompagnano questi tipi di di lavori se siete membri della comunità di ubuntu e vi volete candidare potete farlo trovate su marcos box le istruzioni trovate anche le istruzioni se volete candidare qualcun altro vi dico fin da subito che io non mi sono candidato perché non non lo so perché non mi sono candidato perché pensateci potrei essere io il nuovo leader della comunità di ubuntu e scalzare poi il marco originale in futuro adesso lasciamo stare sto fantasticando dopo passiamo adesso alle notizie dall'estremo oriente dal 23 al 26 settembre si terrà presso lo shanghai world expo center la conferenza annuare huawei connect 2020 il tema di questa conferenza è la creazione di un nuovo valore nel settore huawei ha invitato tanti partner in qualità di partner commerciale fra gli invitati ci sarà anche tonxin software che è la software house che sviluppa tonxin uos o per gli amici uos che altro non è che l'edizione commerciale di dpin linux ve ne ho parlato qualche tempo fa su marcos box trovate link di approfondimento tra i rapporti tra tonxin e dpin e tonxin terrà alcuni talk e alcune dimostrazioni di us su dispositivi huawei chissà cosa presenterà chissà cosa porterà questa collaborazione tra tonxin e huawei speriamo che i soldi di huawei e le idee di tonxin possono trovare un punto di incontro per fornire un sistema operativo linux desktop su larga scala perché le potenzialità ci sono per per us e i soldi di huawei possono fare felici quelli di tonxin ma far felici anche noi utenti perché le eventuali ricadute di contribuzione al codice del codice del carne di linux e quant'altro ne beneficeremo tutti quanti in maniera diretta passiamo adesso alle notizie dal mondo di mozilla iniziamo con le brutte notizie firefox sand scompare firefox sand che cos'era era un servizio di condivisione di file criptografate lanciato da mozilla ormai nel lontano marzo del 2019 successivamente è stato messo in pausa a luglio del 2020 non so se vi ricordate per vari problemi correlati all'utilizzo improprio per la distribuzione di malware veniva utilizzato appunto dagli hacker e da quant'altro per per scopir reciti ebbene mozilla ha deciso sempre anche in un'ottica correlata risparmio di tutti i problemi connessi se vede bene che mozilla non se la passa bene finanziariamente e ha dovuto anche licenziare tagliare di netto il personale bene ha deciso di concentrarsi su quei servizi redditizi e ha deciso nel contempo di tagliare tra virgoletti i rami secchi tra questi c'è firefox sand che non verrà più ripristinato e oltre a questo viene sospeso anche firefox notes entrambi i servizi sono in fase di disattivazione quindi non faranno più parte della famiglia dei prodotti sviluppati da mozilla brutte cose da mozilla e mi dispiace vero perché firefox sand io l'ho utilizzato l'ho utilizzato anche spesso e con soddisfazione ed era un ottimo prodotto ma ci sono anche buone notizie nel mondo di mozilla oggi 22 settembre 2020 mentre sto registrando la puntata c'è stato il rilascio della versione 81.0 di firefox fra le novità di questa nuova versione la possibilità di mettere in pausa il riprodore audio video in firefox direttamente dalla tassiera o dalle cuffie c'è un nuovo tema chiamato alpego che non lo so chi abbia mai potuto pensare di rilasciare un tema come questo come tema ufficiale di firefox di sicuro stava sotto acidi sicuro perché rimanda ai colori di firefox del google è una cosa non lo so giudicate voi provatelo e altre novità riguardano gli utenti residenti negli stati uniti in canada che adesso possono salvare gestire e compilare automaticamente i dati dei campi delle carte di credito funzionalità che già c'è sui browser della concorrenza adesso viene implementata su su firefox speriamo che venga poi portata gradualmente anche da noi nel più breve tempo possibile è stato anche migliorato il visualizzatore pdf integrato all'interno di firefox e è stata aggiunta la possibilità di compilare stampare salvare moduli pdf supportati quindi miglioramenti sotto questo punto di vista correzioni varie debug e quant'altro se siete utenti ubuntu vi tocca aspettare l'aggiornamento da repository della distro per tutti quanti gli altri potete scaricare l'aggiornamento perché su windows e su mac os potete aggiornare direttamente dal browser in realtà potete farlo anche su ubuntu se utilizzate le versioni da target scaricate e installate però nessuno lo utilizzo tutti quanti utilizzano le versioni da repository quindi vi toccherà aspettare un po così come anche su altre distribuzioni perché nemmeno gli altri sono rapidissimi ad aggiornare restiamo sempre in ambito browser web con una notizia che farà felici di molti di voi e che farà incazzare altrettanto perché è il solito coso abbraccio stenti estingui bra 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 ma l'impero del mare biglitz faccini e cose del genere che oramai si si finisce sempre a parlare di quello vabbè dicevamo microsoft ha finalmente annunciato una data per rilascio di microsoft edge per linux microsoft edge per linux arriverà ad ottobre 2020 all'inizio sarà disponibile nel canale dedicato agli sviluppatori quindi su microsoft edge insiders dove sarà possibile scaricare la prima release per linux non appena sarà disponibile c'è stata poi un'aggiunta nel comunicato che ha fatto trezzare le antenne un po di tutti quanti microsoft dice che verrà sarà possibile scaricarlo direttamente da microsoft edge insiders quindi dal sito internet che immagino farà la stessa cosa che fa con visual studio code quindi rilascia il pacchetto deb e il pacchetto rpm per le principali distribuzioni linux e aggiunge che sarà anche possibile scaricarlo dai gestori pacchetti nativi di linux questo lascia presagire che microsoft molto probabilmente utilizzerà lo stesso approccio che è utilizzato con visual studio code cioè che rilascerà il suo browser anche nel formato snap sapete bene che microsoft rilascia visual studio code ufficialmente ufficialmente supportato e mantenuto da microsoft all'interno dello snap store quindi immagino che farà la stessa cosa anche per edge quindi ci sarà anche una versione snap questo è quello che ipotizzo io perché l'altra teoria fantascientifica che molti hanno ipotizzato è che microsoft si metterà a rilasciare microsoft edge per tutte quante le principali distribuzioni linux nella materia di pacchetto nel repository direttamente cioè cose fantastiche proprio assurde quindi immagino che con quella con quell'affermazione microsoft abbia deciso di abbia inteso di dire che verrà rilasciato nel formato universale snap che è possibile sfruttarlo e utilizzarlo su tutte quante le principali distribuzioni linux voi lo proverete lo utilizzerete bestemmi rete non lo so fatemi sapere che cosa ne pensate ebbene con questo è davvero tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di macrosbox ciao ciao ciao